Il Bitonto Opera Festival spegne le sue prime venti, Candeline. La rassegna di musica lirica, nata nel 2003, è pronta a festeggiare il suo ventennale con Giuseppe Verdi. Sarà la messa in scena della Traviata, in programma per il prossimo 6 agosto nel chiostro dell'Istituto Sacro Cuore di Bitonto, a costituire infatti l'evento clou di un'edizione ricchissima di appuntamenti, che vuole ricordare la storia del festival, nato in ambito parrocchiale e diventato un'occasione di riscatto e di inclusione per molti giovani. Eravamo un gruppo di giovani vent'anni fa nella parrocchia di San Domenico, in uno dei centri storici più particolari della Puglia, forse d'Italia, e da lì coinvolgendo un po' le famiglie, coinvolgendo un po' il territorio, abbiamo allestito la nostra prima opera che è stata un Elisir d'Amore subito dopo un Rigoletto. Una vocazione sociale che si riscontra anche nel programma della ventesima edizione, sei le serate che per il prossimo mese coinvolgeranno il Centro Cittadino e le frazioni di Palombaio e Mariotto e regaleranno al pubblico riletture particolari dell'opera verdiana. Si parte martedì 11 luglio alle ore 18 con lo spettacolo ad ingresso gratuito L'Italia in musica. Al condominio solidale della Fondazione Giovanni XXIII Onlus, storico sponsor del BOF, il tenore Giuseppe Maiorano e il soprano Anna Lacassia, accompagnati al sax da Sergio Schiavone, eseguiranno alcuni dei brani più rappresentativi della canzone italiana e le aree più belle del nostro melodramma. La Traviata e le altre opere del maestro di Roncole di Busseto saranno poi rilette in chiave jazz nell'appuntamento del 14 luglio alle ore 20 a Villa Iannuzzi di Mariotto. Verdi in jazz il nome dell'evento a ingresso libero ideato dal maestro Andrea Gargiulo. Suo il riarrangiamento delle più belle aree verdiane, che saranno eseguite da Cristina la Cirignola, voce e piccole percussioni, da Gargiulo al pianoforte e da Mino la Cirignola alla tromba e flicorno. Il 20 luglio alle ore 20 ci si sposterà invece in piazza Milite Gnoto nella frazione di Palombaio per musiche da film. Protagonista della serata a ingresso libero, il quartetto d'Archi Gerswin, che proporrà un medley delle più belle colonne sonore. Evento imperdibile poi, quello del 29 luglio alle ore 20. Sul palco, allestito all'esterno della Fondazione Giovanni XXIII di Bitonto, l'attore Antonio Stornaiolo racconterà la figura di Violetta, protagonista della traviata. Con ironia, ma anche facendo riflettere il pubblico. Violetta è una donna che rinuncia a se stessa e rinuncia anche ai suoi averi per seguire l'amato. È un prototipo di donna che esiste ancora oggi e che noi cercheremo di raccontare nel modo migliore. Cioè, Violetta non è la traviata, la ad essere traviati sono il compagno e il padre del compagno. Quindi, quando racconteremo questo personaggio, lo faremo difendendolo e dicendo che Violetta rappresenta la parte buona delle donne che spesso si lascia calpestare da questi maschi che sono fin troppo vogliosi ed egoisti. Io sono la parte di Violetta. Lo spettacolo inedito Ti presento, Violetta, a ingresso su prenotazione fungerà da guida all'ascolto dell'opera di Giuseppe Verdi che il Bitonto Opera Festival proporrà il 6 agosto. Sul palco del chiostro dell'Istituto Sacro Cuore di Bitonto un cast internazionale selezionato nel corso delle audizioni che proseguiranno anche il 15 luglio e del master lirico in programma il 15, 16 e 17 luglio curato dal maestro Carlo Antonio De Lucia, direttore artistico del BOF. Sul palco anche il coro Opera Festival, diretto dal maestro Giuseppe Montanaro. Ad accompagnare gli artisti sarà l'orchestra giovanile sociale e musica in gioco con bambini e ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni, anche con diversa abilità, problematiche sociali e disturbi dell'apprendimento. Accanto a loro ci saranno gli studenti del Conservatorio Niccolò Piccini di Bari. Già attiva la prevendita dei biglietti per assistere all'opera. Il ticket di 10 euro potrà essere acquistato dal lunedì al venerdì nel botteghino in via Pasquilli 11 a Bitonto o online da Ticket One. La rassegna si concluderà poi l'11 agosto con Cantando sotto le stelle, spettacolo a ingresso gratuito. Dalle ore 18 presso la Fondazione Villa Giovanni XXIII si potrà viaggiare in musica insieme alle voci di Giuseppe Maiorano e Anna Lacassia e al sax di Sergio Schiavone.